Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Spero di coserti far rilassare in questo nuovo video. Spero di guardarti a tormentare, a tormentare, in 5, 5, 5, 5 minuti, ancora, chiudi gli occhi, chiudi, chiudi gli occhi e di suotare la tua venta, ce la devi rilassarti. Ti chiedo scusa di sentire la mia ventina torre sottofondo, ma spero possano rilassarti. Concentrati sul suono della mia voce, cerca una posizione comoda, cerca di rilassarti. Immagina che tutti i tuoi pensieri svaniscano. Pensa che domani sarà un giorno migliore e tutte le tue preoccupazioni scopriranno come fermazione. Pensa che è solo un momento di difficoltà, che tutto si risolverà. Ora, pensa che rilassandoti, che possa cancellare tutti i tuoi pensieri negativi, e trasformarli in positivi. Ora, cerca di visualizzare la tua mente, un pensiero positivo, un buon ricordo positivo, congettati sul buon ricordo. e immagino che il tuo ricordo possa aiutarti negli eventi incommuncati. Buon notte insonni, congettati sul suono della mia voce, i tuoi suoni, i tuoi suoni, i tuoi momenti, i problemi non esistono più. Tu puoi essere forte, tu puoi essere forte, tu puoi realizzare tutti i tuoi sogni, e fai solo crederci. Domani, quando ti svolgerai, sarai una persona nuova, una persona più forte, una persona determinata, una persona che sa ciò che vuole e può ottenerlo. Rilassati. 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 Pensa, solizza l'immagine chiara della tormenta e pensa, io sono forte, io rivedrò con la felicità, io posso essere felice, io sarò felice. Ora, conta con me, dieci, dieci, nove, otto, otto, sette, sette, sei, sei, cinque, cinque, quattro, tre, tre, due, due, uno, sei, ora puoi fare il sogno d'ora, fare dormire, il rassato, e domani sarai una persona nuova, ti amo, una buonanotte, 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 riposati e ricordati che da domani sarai diverso, non, 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 non